medical pharma nasce a bergamo nel 1989 da oltre 30 anni la nostra abilità artigianale si sposa con le più moderne tecnologie investiamo tutti i giorni in ricerca e formazione personale risorse necessarie per offrire servizi e prodotti sempre più avanzati ci troviamo a bergamo cassano dadda e treviglio nei nostri showroom è possibile trovare un'ampia gamma di articoli ortopedici e sanitari una consulenza attenta e dedicata e un'assistenza sempre puntuale e professionale un moderno laboratorio garantisce inoltre la produzione di presidi ortopedici su misura valutazioni posturali esami baropodometrici noleggio e consegna a domicilio sono alcuni dei servizi garantiti e sempre erogati da tecnici ortopedici qualificati e iscritti all'albo siamo convenzionati con il sistema sanitario nazionale e aiutiamo i nostri clienti nelle procedure di erogazione gratuita di ausili e ortesi forniamo attrezzature e servizi a ospedali cliniche e ambulatori e collaboriamo con operatori sanitari che riconoscono in medical pharma un partner attento ed affidabile medical pharma il tuo benessere su misura